Buonasera, ringrazio il professor Silvio Brusaferro Presidente Istituto Superiore di Sanità che mi accompagna oggi nella lettura del bollettino. Intanto oggi vi daremo notizia dei dati che abbiamo riscontrato, manca la Regione Campania che non è arrivata in tempo utile per la comunicazione dei dati, aggiungeremo i dati della Regione Campania nel bollettino di domani. Iniziamo con il dato dei guariti, oggi registriamo 1.084 guariti, è un numero veramente importante, questo porta il numero dei guariti a 4.025, un incremento del 37% del numero dei guariti rispetto al valore precedente. È di 2.648 l'incremento delle persone attualmente positive, quindi come vedete nel corso anche di questa settimana abbiamo un trend sostanzialmente stazionario nell'ambito dei valori che abbiamo comunicato nei giorni scorsi. Il totale delle persone attualmente positive è di 28.710, 12.090 sono in isolamento domiciliare senza sintomi e con sintomi lievi, 2.257 sono le persone in terapia intensiva. Purtroppo oggi vi devo comunicare anche il dato dei deceduti, registriamo 475 deceduti. Per quanto riguarda l'attività di supporto alle strutture sanitarie voglio ricordare che oggi il dato complessivo dei pazienti trasferiti attraverso il sistema della CROSS e di 55 pazienti ed è proseguita l'attività di installazione di strutture mediche e campali. Ieri vi avevo parlato dell'ospedale dell'ANA di Bergamo a Bergamo Fiere, associazione nazionale alpina e della ONG americana a Cremona. Sono in corso le attività di installazione degli ospedali da campo delle forze armate a Crema e Piacenza. Qui voglio ringraziare le forze armate che sono vicino al Dipartimento e al Servizio nazionale della protezione civile alle regioni per portare avanti l'attività di soccorso alla popolazione. E' proseguita l'attività di distribuzione delle mascherine dei ventilatori. Abbiamo distribuito oltre un milione di mascherine e 40 ventilatori per la ventilazione polmonare. Per quanto riguarda le altre cose voglio ricordare che il Dipartimento della protezione civile sulla base di quelle che sono state le sollecitazioni pervenute nei giorni scorsi ha aperto un conto corrente per raccogliere le donazioni da parte dei nostri connazionali e troverete sul sito tutte quante le informazioni sul conto corrente e gli estremi del conto corrente. Queste donazioni saranno utilizzate per l'acquisto delle attrezzature sanitarie dei dispositivi di protezione individuale. Voglio infine concludere con un messaggio di vicinanza vicinanza ai sindaci dell'area della Bergamasca che in questo periodo stanno insieme con tutte le strutture sanitarie con la popolazione vivendo un momento di grossa fatica di grosso impegno quindi gli siamo tutti quanti vicino e voglio anche da ultimo ricordare che è necessario adottare corretti comportamenti quindi voglio richiamare ancora una volta l'esigenza di contenere al massimo gli spostamenti perché anche i dati di oggi sul numero dei guariti e sul numero soprattutto dei contagiati ci fanno pensare positivo con l'adozione dei corretti comportamenti. Io mi fermerei qui darei la parola al professore Brusaferro prego professore. Grazie buonasera a tutti come sapete noi due volte a settimana come istituto superiore di sanità produciamo dei dati e dei rapporti più approfonditi sia sull'andamento dell'epidemia sia sull'andamento della mortalità oltre l'infografica che viene prodotta ogni giorno. Oggi vorrei focalizzare un po' l'attenzione insieme a voi su questi rapporti, rapporti che peraltro trovate all'interno del nostro sito. Il rapporto sull'andamento diciamo delle curve epidemiche mostra sostanzialmente come, e parliamo dei casi confermati, mostra come sostanzialmente la curva epidemica a livello nazionale sia in crescita, mostra anche dalle mappe che potete trovare anche dall'infografica come ancora una volta siano alcune regioni del nord Italia quelle che sono maggiormente coinvolte oggi nella circolazione locale e nel numero di persone positive ma soprattutto nel numero di persone che poi si rivolgono ai servizi sanitari in particolare agli ospedali e alle terapie intensive. L'ho citato prima il commissario Borrelli che in realtà alcune aree del paese si stanno attrezzando in maniera straordinaria e anch'io voglio esprimermi insieme a lui la vicinanza ai colleghi e alle autorità e a tutti i cittadini di quelle aree che stanno impegnandosi veramente in maniera ammirevole in un momento di grande difficoltà. Detto questo il dato che noi vediamo è che comunque nelle altre aree del paese c'è una crescita ma non è così veloce è però questo un elemento importante da prendere in considerazione perché non deve illuderci e quindi coloro che poi guardassero nelle mappe regioni che apparentemente non hanno numeri così elevati come quelli che oggi caratterizzano alcune zone della Lombardia, alcune zone dell'Emilia Romagna, zona del Veneto, della Liguria, del Bremonte anche e in parte anche delle Marche. Questo non deve creare false illusioni perché soltanto e soltanto ribadisco se tutti ci comportiamo in determinato modo come raccomandato, se tutti evitiamo contatti stretti e manteniamo le regole di isolamento, distanziamento sociale che abbiamo definito, solo questa è la vera misura che ci può aiutare a rallentare la diffusione della curva epidemica. Detto questo noi sappiamo che l'impegno importante è quello delle terapie intensive anche perché è vero che sono un numero limitato di persone che ha bisogno di supporto della terapia intensiva ma quando il numero degli infetti o il numero delle persone che contra l'infezione è molto ampie anche il 5% diventa un numero molto elevato e questo diventa un aspetto estremamente importante. Sappiamo anche che è molto importante avere in mente le raccomandazioni che vengono utilizzate e poter usare questi atteggiamenti della nostra vita quotidiana come un elemento importante. Colgo un aspetto che vorrei sottolineare, il primo aspetto, due aspetti che vorrei sottolineare, il primo aspetto che voglio sottolineare è l'importanza per le persone che sono positive senza sintomi o con pochi sintomi o paucisintomatiche come spesso le definiamo, queste persone devono assolutamente rispettare le regole di isolamento. Su questo abbiamo creato anche dei fogli di istruzione che si possono scaricare, si possono scaricare, leggere dal sito dell'Istituto Superiore di Sanità ma sono presenti anche nel circolare ministeriale. Questo aspetto è determinante perché queste sono le persone che se non rispettano queste regole sono quelle che possono più facilmente trasmettere l'infezione perché come capite una persona che è ospedalizzata se è positiva certamente nel suo contesto ma è già trattata come positiva. Persone invece che stanno bene o che quindi hanno solo una viremia positiva o che persone che hanno pochi sintomi tipo un po' di moccio diciamo un po' di arrossamento della congiuntiva o qualche linea di febbre, quelle potenzialmente sono le persone che più facilmente possono trasmettere e trasmetteranno tanto più tanto più sono sintomatiche. Questo è il passaggio estremamente importante. La seconda grande raccomandazione, prima poi di avviarmi all'analisi dei dati di mortalità, la seconda grande raccomandazione è attorno alle persone fragili. Lo vedremo anche dai dati di mortalità, purtroppo la mortalità colpisce persone affette da patologie, persone anziane. Il combinato tra persone anziane con più patologie è il fattore che oggi è più presente, è lo scenario che più presente nei dati di mortalità che purtroppo dobbiamo analizzare. Da qui nasce il problema e la raccomandazione di fare in modo che le queste persone fragili abbiano la protezione più elevata che possiamo dare loro. Protezione vuol dire stare in casa, vuol dire anche che la rete di supporto sociale deve poter aiutare queste persone a stare in casa, evitare i contatti, portando loro spesa, aiutandoli in qualche modo laddove non sono in grado di farlo da soli. Però queste sono le persone più in questo momento più fragili, sono le persone che in caso di infezione rischiano di pagare il dazio più alto. La seconda cosa importante è sempre per queste persone nelle istituzioni come il caso di riposo, RSA, è già previsto nei nostri normativa, è previsto il fatto che rimangano ovviamente, si privi loro dell'affetto anche dei loro cari nelle visite ma questa privazione è una privazione estremamente importante perché in quei contesti un'eventuale presenza di infezione è più difficilmente controllabile e poi soprattutto a una popolazione particolarmente fragile e quindi ancora una volta questo è un qualcosa che dobbiamo evitare. Venendo al tema dei decessi abbiamo detto già da alcuni giorni che accanto a un'analisi quotidiana che fa ovviamente la protezione civile che enumera sostanzialmente eventi riportati, noi successivamente quindi con un ritardo dovuto al fatto che dobbiamo analizzare caso per caso anche attraverso cartella clinica andiamo a fare un'analisi più dettagliata sul profilo delle persone che purtroppo perdono la vita durante questa epidemia. Bene, questo ovviamente richiede a un ritardo dicevo perché vuol dire acquisire la cartella clinica di queste persone quindi questo è l'unico modo che ci consente un'analisi più precisa delle patologie che hanno avuto queste persone anche del decorso clinico che ha caratterizzato queste persone. I dati non sono significativamente diversi da quelli che abbiamo presentato già da alcuni giorni ovvero sia più andiamo ad approfondire più ci ritroviamo maggiori dettagli ma sostanzialmente l'inquadramento generale è lo stesso ovvero sia parliamo di una popolazione parliamo di chi decede che ha 80 anni più o meno è una popolazione dove soprattutto di tipo maschile quindi le donne sono soltanto il 30 per cento in questo caso l'altra cosa sono quindi sostanzialmente la differenza di età tra chi decede e le persone che invece vengono ricoverate o sono affette dall'infezione è un'età che mostra sostanzialmente quasi 15 anni di differenza quindi è una realtà che colpisce soprattutto le persone anziane e i picchi più elevati li abbiamo nelle fasce di età dai 70 anni ai 79 quello più elevato in assoluto di decessi colpisce l'età tra 80 e 89 anni quindi è una realtà che come ribadisco quanto detto all'inizio accanto alla fascia di età l'altro elemento molto importante è il fatto di avere delle patologie quelle che noi chiamiamo comorbosità patologie spesso comuni ma che tra loro associate poi rendono molto fragili queste persone sono patologie come la fibrillazione artiale l'ictus l'ipertensione arteriosa la demenza diabete mellito il cancro l'epatopatia cronica insufficienza renale le classiche patologie che purtroppo accompagnano spesso gli ultimi anni della vita della nostra vita bene in quando andiamo ad analizzare la mortalità scopriamo che sostanzialmente il 48 per cento 48.5 per cento delle persone esaminate ha tre o più patologie il 25.6 per cento a due patologie e l'altro 25.1 per cento a una patologia di fatto all'analisi attuale e stiamo ulteriormente approfondendo il dato su questo soltanto lo 0 8 per cento in questo momento risulterebbe avere 0 patologie questo è un passaggio importante per comprendere un po' l'andamento dell'epidemia e anche per giustifica il perché mi avete sentito iniziare e raccomandare veramente a tutti gli italiani attenzione alle nostre persone fragili l'altro elemento che si conferma sono i tipi di sintomatologia prevalente che caratterizza l'esordio di chi poi viene ricoverato e purtroppo ha un esito non fausto e la febbre e la dispnea la difficoltà respiratoria sono i due elementi più importanti seguiti dalla tosse diciamo che oltre tre persone su quattro hanno febbre e dispnea questo è l'altro elemento importante abbiamo altri elementi che possono darci tra le persone più giovani guardando un po' i decessi che purtroppo abbiamo anche al di sotto dei 50 anni in questo tipo di categoria quando siamo andati poi andiamo ad analizzare su cartella clinica troviamo persone che purtroppo già a quell'età sono affette da alcune patologie come patologie cardiovascolari disturbi renali disturbi psichiatrici diabete mellito obesità e quindi ancora una volta anche le persone più fragili e spesso tra loro in combinazione in associazione ancora una volta persone più giovani ma in questo caso particolarmente fragili perché affetto da perché affette da questo tipo di patologia il quadro quindi per riassumere e per lanciare un messaggio finale proprio per prima poi di lasciare spazio alle domande credo che ancora dobbiamo essere consapevoli che siamo in una fase in cui stiamo misurando l'effetto delle misure che sono state adottate in particolare quelle adottate in tutto il paese siamo ancora in una fase in cui non possiamo vedere immediatamente i benefici ci vorrà ancora qualche giorno ma soprattutto è una fase in cui non dobbiamo mollare non siamo non abbiamo le condizioni non ci sono i presupposti per mollare dobbiamo mantenere queste misure se vogliamo verificare degli effetti e se vogliamo veramente e questo il secondo messaggio fare in modo di proteggere le nostre persone più fragili questa è la scommessa che dobbiamo fare tutti assieme e la scommessa che ci stiamo dando e credo che anche i numeri che presentiamo e condividiamo due volte alla settimana quotidianamente attraverso l'infografica e quotidianamente attraverso i dati della protezione civile ci indicano che questa è la strada che dobbiamo continuare a percorrere per fare in modo che le persone che hanno bisogno di assistenza la possano trovare e soprattutto la possano possano essere diluite nel tempo così che possono trovare le nostre strutture sanitarie e i nostri professionisti in grado di dare la migliore assistenza un'ultima osservazione mi lasciate me la consentite ed è quella di ancora una volta un ringraziamento un ringraziamento a tutti i nostri professionisti un ringraziamento ai volontari un ringraziamento alle autorità locali nazionali regionali che si stanno spendendo in tutti i modi per cercare di arginare e cercare di attenuare e ridurre l'impatto di questa epidemia grazie passiamo alle domande mi atterrò giuliano bormioli agenzia nova e io vorrei tornare avevo già chiesto ieri sulla situazione delle province di bergamo e di brescia che mi sembrano un po quelle più da considerare in questo momento innanzitutto vorrei capire se l'istituto ha fatto degli studi e se si spiega questo incremento vertiginoso di contagi anche di decessi semplicemente con la vicinanza dal focolaio iniziale o se ci possono essere altre cause per cui in quei territori in cui ricordo che comunque il numero dei contagiati supera singolarmente quello di emilia romagna e veneto e riferito a questo e alla situazione lombarda e della provincia di bergamo se si aspettano un'evoluzione simile anche dovuta alle tante persone che nelle scorse settimane hanno lasciato la Lombardia appunto e nel caso quando vi aspettate di vedere queste conseguenze nel resto del paese grazie Prima di tutto mi consenta un auspicio le misure adottate mirano a fare in modo che non vediamo queste conseguenze che possiamo o quantomeno le possiamo vedere molto attenuate questo è il primo auspicio e del motivo per cui sistematicamente facciamo un appello per raggiungere questo la realtà di bergamo e di brescia è una realtà in questo momento in cui la circolazione è molto elevata sono realtà comunque dove ci sono popolazioni anziane che fino a prima dell'epidemia è tuttora come marker è un marker di una ottima qualità della vita perché si sopravvive a lungo anche con più patologie perché non dimentichiamo queste persone che anziane che vivevano con più patologie ma che in questa situazione purtroppo diventa un elemento di maggior rischio noi riteniamo che questa situazione in questo momento ovviamente non possiamo fare previsioni ma possiamo sulla base delle esperienze che sono state fatte in contesti simili parlo della zona dell'Odigiano ci sono evidentemente i presupposti oggi viviamo una situazione non dico di picco ma certamente di ampia crescita l'auspicio che queste misure se adottate sistematicamente possano poi ovviamente attenuare questa curva e poi evitare che questa si riproduca in altre province questa un po' è la scommessa che stiamo facendo in questo momento il pattern di casi che si verifica in queste province e anche in qualche altra zona è un pattern molto elevato però dobbiamo anche tenere presente che fa parte è un portato di un tempo di qualche giorno fa cioè prima delle che venissero adottate le misure è vero che la Lombardia aveva una zona gialla come chiamavamo gialla però non era così stretta come poi è diventata con i due decreti successivi ma diciamo che sono aree dove c'è una tutta Lombardia è una regione con una fortissima circolazione tra le persone è strettamente interconnessa sia per attività industriali per tutte le attività produttive sostanzialmente questo ovviamente facilita e quindi diventa anche più complesso interrompere i contatti adesso probabilmente un po più semplice perché ci siamo bloccati però certamente quello che noi vediamo è che il fattore contiguità è un fattore che abbiamo colto in varie cose anche una parte dell'Emilia del nord in realtà ha una caratterizzazione di una forte circolazione proprio laddove è in stretta connessione con queste aree ovviamente adottare queste misure su tutto il territorio nazionale vuol dire fare in modo che questa contiguità non diventi poi si rallenti e questa è la scommessa che oggi dobbiamo tutti cercare di vincere proprio nelle aree contigue nei dati relativi ai decessi le persone decedute sono decedute tutte in ospedale o sono decedute anche a casa e la seconda domanda invece l'otto per cento delle persone contagiate risulterebbe all'interno degli ospedali delle strutture sanitarie quindi sono operatori sanitari chiedono ancora di più la possibilità di poter effettuare test in alcuni ospedali non tutti lo fanno quindi volevo sapere come si può risolvere il loro appello. Allora partiamo dalla prima domanda la prima domanda era quella di se erano deceduti a casa? No, noi abbiamo segnalazioni di decessi soprattutto in ospedale abbiamo anche segnalazioni di decessi in casa di riposo questo è per il dato che noi oggi abbiamo ed è il motivo per cui abbiamo anche segnalato mi avete sentito ripetere più volte il tema delle case di riposo questi luoghi dove concentriamo delle persone anziane fragili e che vanno assolutamente protetti questo è il primo dato non escludo che ci siano ovviamente dei decessi a casa le sto dicendo dei dati che abbiamo censito di cui abbiamo documentazione. L'altro elemento importante era quello degli operatori sanitari i nostri dati ci dicono che ci sono operatori sanitari che sono diventati positivi purtroppo anche qualche operatore sanitario qualche medico anche altri professionisti ha perso la propria vita perché affetto da questa infezione e ovviamente questo anche la precedente conferenza stampa mi avete sentito citare una persona un collega amico ma non vorrei non è il collega amico ma sono i colleghi che si stanno sacrificando il personale sanitario i volontari e tutte queste persone che si stanno sacrificando per dare un'assistenza questo è un tema importante e credo che ma qui forse il commissario Borrelli è più informato è più certamente una delle anime e dei motori di uturni nel cercare di garantire a queste persone strumenti per poter fare al meglio il loro lavoro sapendo che siamo in una fase di mezzo dove la riconversione industriale non è ancora avvenuta e dobbiamo fare veramente i salti mortali però lascerei la parola al commissario Borrelli perché certamente lui è una delle figure oggi chiave nel garantire a tutti noi di poter fare il nostro lavoro al meglio Sì io su questo voglio ribadire il lavoro immane che stiamo facendo non lo stiamo facendo solo noi del dipartimento della protezione civile lo stanno facendo i colleghi delle regioni e c'è un aiuto tra noi e le regioni ci diamo supporto reciproco per andare a prendere le mascherine in Brasile oppure per far arrivare e sbloccare delle merci che sono fermi alle frontiere questo è il tema è quello di trovare sul mercato internazionale le mascherine è un lavoro che è come una tela che tessiamo di giorno e la sera in qualche modo viene disfatta in parte perché alcune commesse poi non si concretizzano per soprattutto anche ragioni di chiusura delle frontiere a livello diplomatico il ministro Di Maio e i colleghi della Farnesina stanno lavorando molto ma quello che tutti quanti noi ci aspettiamo è quello che nel nostro paese possa essere attivata quanto prima una produzione di dispositivi di protezioni individuali che ci permettano di fronteggiare le esigenze nel frattempo fronteggeremo la questione contingente e l'esigenza contingente con tutti gli sforzi andando in giro per il mondo a trovare i dpi che servono. Credo aggiungo solo un elemento anche per quanto riguarda gli operatori sanitari comunque il comitato tecnico scientifico e poi questo è stato tradotto in circolari da parte del Ministero delle Appropriate Direzioni del Ministero della Salute ha dato indicazioni su come monitorizzare il personale sanitario esposto in maniera tale che possa lavorare nelle migliori condizioni possibili anche laddove sia stato esposto. Buonasera, Giorgia Sodaro a Dn Kronos. Dal report che avete pubblicato è emerso che il 70 per cento delle vittime sono uomini di età media 79 anni. Volevo capire come mai di più gli uomini se su questo avete fatto qualche ipotesi. No, al momento non siamo in grado di dare questo tipo di risposta, è un dato che anche noi stiamo vedendo, dobbiamo ovviamente man mano che aumentiamo il campione delle persone che vengono testate, dobbiamo anche vedere se poi questo dato viene confermato, questo è il dato che oggi ce ne siamo. Volevo chiedere sul tasso di letalità che continua ad essere altissimo a che cosa lo attribuite? Al fatto che vengono rilevati pochi dei casi effettivi che ci sono oppure ci sono condizioni particolari qua in Italia rispetto anche agli altri paesi che hanno avuto esperienze? Guardi, questa è una domanda che ci viene posta anche a livello internazionale, le risposte a cui che io posso darle in questo momento e che stiamo anche condividendo con i colleghi a livello internazionale, che uno certamente c'è un fattore caratterizzante l'Italia che è l'età media, noi abbiamo un'età media molto elevata, abbiamo corti di popolazione che vive molto a lungo, questo era uno dei nostri marker anche di forza del nostro servizio sanitario nazionale, questo ovviamente fa sì che questo tipo di popolazione è il target preferito da questo tipo di infezione per complicare in qualche modo la sopravvivenza perché in persone già di fragili tra loro si aggiunge un ulteriore elemento che spesso nel caso delle morti fa precipitare la situazione. Questo è un primo elemento molto importante, quindi la struttura di età media della nostra popolazione certamente giustifica questo tipo di dato, non abbiamo evidenze che il virus sia diverso rispetto a quello che circola in altre aree del mondo, non certamente da quello cinese, è stato detto in alcune situazioni, è stato anche ripetuto, ci sono i dati che lo stanno mostrando, di analisi proprio del virus. Un altro tipo di considerazione in qualche modo sta colpendo alcune aree del paese dove le persone, ci sono molte persone anziane perché l'età media è elevata, anche questo è un elemento che può giustificare questo tipo di dato. Non abbiamo ragione oggi di ritenere che ci sia una specificità diversa rispetto ad altri paesi del mondo, detto questo ovviamente stiamo analizzando, stiamo studiando, acquisire anche tutte le cartelle cliniche ci consente di poter andare in maniera più analitica a comprendere le ragioni di questo. L'ultimo dato che lei citava era il denominatore, il denominatore nel nostro caso soprattutto e sempre più come vedete nei casi che vengono riportati quotidianamente dalla protezione civile si tratta di un denominatore che in qualche modo mostra come una parte importante delle persone è sostanzialmente positiva, sintomatica a livello domiciliare però le politiche attualmente adottate in accordo con l'Organizzazione Mondiale di Sanità di tampone nella popolazione fanno sì che il numero anche di positivi ma semplicemente quarantenati senza essere stati confermati è più ampio e da lì la raccomandazione iniziale che i contatti stretti, quelli che vengono tracciati come contatti stretti devono rispettare la quarantena perché questo è un fattore importante, bene fa sì che questo denominatore probabilmente più ampio e quindi sicuramente più ampio e quindi se calcoliamo sui numeri riportati la letalità questa rischia di essere sovrastimata però il combinato di questi fattori che vi ho dato rappresenta una delle ragioni per cui noi riteniamo che questo al momento che questo sia lo scenario. Scusate, sono Navarra dell'agenzia di stampa Aska News, forse il professor Busaferro mi riferito, io in realtà avevo scritto una domanda che in parte sicuramente lei ha già risposto però dirà provo a rifare perché così come l'avevo fatta perché credo che sia importante, un dato anche rispettoso delle persone che muoiono per questo grave virus e richiedevo proprio questo, in relazione ai dati che avete diffuso anche oggi, quanto si può chiarire che il decesso sia dovuto proprio soltanto al coronavirus, al Covid-19 e non già a quello che la Food and Drug Administration, Taylor l'altro giorno ha detto, è una malattia da pendolare, nel senso che sale sull'autobus, cioè sale sulla persona, sale sulla malattia che già, sui problemi di salute che ha già la persona e poi li compromette. Ecco, esiste un dato reale, depurato, delle cose che ha detto precedentemente che indica la mortalità reale di questo virus. scusate la polizia, navarra, scusate ma provo a riprendere un po' i dati che ho detto ma provo a dirla in maniera, in un altro modo. Allora, premesso che ogni morte per noi è una sconfitta e per tutto il personale sanitario, ogni morte è una sconfitta dal punto di vista, ma è una sconfitta per l'intera nostra umanità che cerca ovviamente di salvaguardare le persone più fragili. Non voleva essere. No, 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 ma mi pareva giusto... La mia non voleva essere assolutamente. Lo prenda come una mia sensibilità, insomma, ecco così. Era anche la mia. Ok. Detto questo, lei ha fatto un esempio citando altri, ma ce lo siamo detti. Quando io riporto e trovo, non io insomma, l'istituto riporta dei dati e vi dice che il 48.5% avevano tre o più patologie, spesso vuol dire che sono persone e hanno più di 70 anni, il picco è tra 80 e 89 anni, sono persone che vivevano in una condizione che noi chiamiamo tecnicamente di fragilità. Vuol dire che anche un piccolo scompenso può sbilanciarli verso la fine vita o no. Ecco, questo è l'elemento importante che caratterizza. Un esempio analogo, nei mesi precedenti l'epidemia, e nella storia anche in qualche modo di questo Paese, tutti ricordate che quando avvengono degli elementi particolarmente, o climatici, pensate alle andate di calore, o infettivi come l'epidemia influenzale, in realtà le persone più fragili finiscono per pagare un dazio perché? Perché in una fragilità di base basta un piccolo fattore che altera l'equilibrio per far migrare la storia di questa persona verso un esito piuttosto che nell'altro. Ora quando io dico e vi riporto, e questo l'abbiamo visto anche per l'influenza, il che non vuol dire che l'infezione in questo caso probabilmente è la goccia che ha spostato un equilibrio che di per sé era piuttosto fragile. E quando diciamo che il 48,5% delle morti che noi abbiamo esaminato era in pazienti che aveva più di tre o più patologie, diciamo che erano persone piuttosto fragili, che magari spesso prendevano molti farmaci, che probabilmente avranno... C'erano tutta una serie di considerazioni che peraltro sono note nella realtà italiana perché grazie al cielo viviamo a lungo anche con dei supporti. E' chiaro che tanto più fragile sei, e da lì l'appello anche a proteggere i fragili, tanto più ovviamente anche un piccolo stormire di fronde può influenzare. Questo è un po' il tema, quindi non so se le ho risposto, però certamente dire che la nostra popolazione è molto anziana e questo è un dato obiettivo a livello mondiale, dire che in questo momento l'infezione colpisce molto queste persone anziane e soprattutto in queste persone anziane finisce per diventare quella goccia più o meno grande che fa in qualche modo spostare un equilibrio. Questo è un dato obiettivo. Questo non giustifica però il fatto che a noi vorremmo fare di tutto e vogliamo fare di tutto, vogliamo impegnarci in tutti i modi affinché anche questa piccola goccia non sposti questo equilibrio. Marco Melli, agenzia Stampadire, vorrei sapere se la seroprofilassia è un'idea ancora in piedi e se sì come e quando si potrà usare il plasma dei guariti per curare i malati. Grazie. Ok, questa è una delle domande e delle sfide anche più suggestive da sempre nel campo della sanità pubblica. È un'ipotesi su cui lavoriamo e dobbiamo lavorare. È un'ipotesi però che per essere utilizzata richiede alcuni presupposti. Il primo presupposto richiede di poter dosare la quantità di anticorpi presente nel plasma dei guariti. Noi sappiamo che ognuno di noi ha una risposta anticorpale diversa in funzione del proprio fisico, in funzione della capacità del nostro sistema immunitario di produrre anticorpi specifici contro questo virus. Noi oggi non abbiamo tecniche standardizzate e condivise su questo e questo è uno dei limiti che abbiamo in questo momento. Il che non vuol dire che non lo avremo nelle prossime giorni, nelle prossime settimane. Però uno dei presupposti importanti in questo caso è poter dosare effettivamente quanti anticorpi chi è guarito, chi ha superato l'infezione ha sviluppato. Laddove noi riusciremo a dosare questo potremmo sì allora attraverso il plasma di queste persone selezionare il plasma di coloro che hanno risposta anticorpale significativa e poterlo usare eventualmente per supportare le difese immunitarie delle altre persone. Al momento la parte chiave di questo elemento è proprio quella di andare a individuare e a dosare la quantità di anticorpi presente nelle persone che hanno contratto l'infezione. Ripeto, confido i nostri ricercatori, le nostre aziende, le nostre università, i nostri centri di ricerca stanno lavorando duramente su questo. Credo che una risposta l'avremo prossimamente. non fatemi quantificare cosa vuol dire prossimamente ma non in tempi remoti. Quando avremo questo, questa diventa un'opzione interessante da studiare, da capire e può diventare un'opzione certamente da valutare. Buonasera, sono Claudia Fusani per Fiscali News. Una domanda per entrambi. Noi abbiamo due scadenze adesso, il 25 marzo per quello che riguarda le attività commerciali e il 3 aprile per quello che riguarda le scuole. In base a quello che avete detto, anche oggi, i numeri, i dati, voi pensate che queste date potranno essere rispettate o ci sarà bisogno di una proroga? E se c'è bisogno di una proroga, se c'è bisogno anche di avere misure più dure. Oggi se ne parla, nel senso che qualche Ministro, Parazzuchigi, ha avanzato l'ipotesi di mettere in campo misure ancora più stringenti. Qual è la vostra opinione? Vado prima io. Allora, io credo che è ancora presto per dare un giudizio e prendere delle decisioni. Almeno per quelle che sono le mie valutazioni sulla base delle indicazioni della parte scientifica dovremo aspettare ancora qualche giorno, una settimana forse e poi si potranno anche vedere quelle che sono le tendenze che si entranno in qualche modo a consolidare. per cui io non mi formalizzerei su quelle che oggi immaginare quali saranno le decisioni che si andranno ad assumere. Il nostro Paese è stato bravo per aver assunto le decisioni, ogni volta quelle più giuste ed adeguato. il criterio dell'adeguatezza e della proporzionalità delle misure che anche il Presidente Conte ha più volte ribadito, ogni volta che venivano adottate queste misure ci impone di fare queste riflessioni nell'imminenza della decisione e non con un eccessivo anticipo per quello che mi riguarda. Posso aggiungere poco a quanto ha detto il Dottor Borrelli, posso ribadire il fatto che noi dobbiamo misurare gli effetti delle misure adottate, lo stiamo facendo, il tempo è ancora breve, dobbiamo però avere contemporaneamente in mente che questa è un'epidemia che tocca l'Italia in questo momento la tocca in maniera particolarmente pesante in alcune aree del Paese ma come state vedendo tocca anche Paesi dell'Unione Europea, tocca in realtà tutto il mondo ma anche Paesi a noi molto vicini e quindi in realtà diventa sempre più una battaglia centrata molto sui comportamenti centrata molto sulle misure generali di stanziamento sociale ma che va gestita, va misurata e i provvedimenti vanno modulati anche in funzione di quello che avviene. Nel senso l'efficacia dei provvedimenti, non mi stancherò mai di ribadirla, passa anche e soprattutto attraverso i comportamenti di ognuno, passa anche attraverso la consapevolezza che non ci sono scorciatoie, che non ci sono test facili che mi possano mettere in sicurezza, un test negativo oggi domani potrebbe essere positivo, i test peraltro che noi adottiamo sono test che analogamente a quanto dicevo prima per quanto riguarda gli anticorpi nel plasma sono test in fase di sviluppo, oggi l'OMS ha qualche centinaio di test in fase di validazione ma è importante il comportamento, oggi i test non sono l'arma decisiva, l'arma decisiva in questo momento sono i nostri comportamenti. Ripeto, i test danno una visione istantanea, in questo momento io posso risultare negativo però dobbiamo essere anche molto consapevoli che sono test nuovi che non sono ancora stati validati e che certamente nelle prossime settimane avremo dei risultati e man mano che questi verranno consolidati, verranno spiegati, verranno validati scientificamente i comportamenti, le scelte potranno essere modulati. Però oggi la battaglia la dobbiamo vincere coi comportamenti. Ma servono misure ancora più stridenti o no? E beh ci lasci misurare che effetto fanno queste, quindi direi di... Ma io direi che non è che uno può cambiare misura ogni giorno, deve fare... abbiamo detto che l'arco di tempo di azione di un certo tipo è stato adottato un provvedimento la scorsa settimana particolarmente restrittivo in su tutto il Paese, lasciamo che questo provvedimento agisca e in base alla sua azione poi faremo le considerazioni. Buonasera, Sabene del Tg2. Professore, ho una curiosità da chiederle. Quando il Governatore Fontana dice, cito testualmente, c'è la possibilità che non riusciremo più a far fronte alle cure per gli ammalati? Lei si preoccupa? Un'altra domanda sempre legata a questa. Quando il Sindaco Gori dice che il numero dei morti è sottostimato, a Bergamo non c'è neanche la possibilità di un tampone post mortem. Lei è preoccupato di questo? Se le strutture ospedaliere del Nord non ce la fanno, come potrà essere traslare questa situazione al Sud se i contagi di questi giorni o le fughe dal Nord verso il Sud daranno purtroppo i risultati che nessuno si augura? Che io sia preoccupato penso non saremmo qui, credo, assieme a tutti voi a condividere con il nostro Paese, con i nostri concittadini, le raccomandazioni e anche certe misure adottate che sono particolarmente restrittive. Quindi se lei mi dice, sì, sono preoccupato ma sono anche impegnato, siamo impegnati per cercare di fare in modo che degli scenari che oggi sono particolarmente critici, l'abbiamo detto all'inizio della conferenza stampa, non si verifichino in altre aree del Paese. La scommessa e da lì gli appelli è che dobbiamo tutti lavorare assieme anche se in questo momento in alcune aree del Paese sembra che sia molto lontano, che sia una cosa che riguarda altri, che riguarda con cittadini, persone che sono a centinaia di chilometri da noi, il nostro comportamento anche se viviamo a centinaia di chilometri dalla Lombardia è determinante proprio per evitare questi scenari. Io credo e sono fiducioso che tutti noi italiani siamo consapevoli di questo e che cercheremo di evitarlo, quindi sono preoccupato ma sono impegnato e sono anche confortato dal fatto che colleghi, autorità, forze, volontariato, cittadini mi pare, ho l'impressione, ma forse voi ne avete ancora più di me perché avete i sensori molto più di quanto possa avere io, mi pare che il messaggio stia passando e credo che dobbiamo tutti impegnarci perché continui a passare, non è una cosa che risolviamo col comportamento di un giorno ma dobbiamo rispettare queste regole per l'arco di tempo che ci stiamo dando. I morti di Bergamo purtroppo in questo momento Bergamo ha una circolazione del virus molto elevata, ha una popolazione anche nella sua provincia con molti anziani e questo ovviamente purtroppo è uno di quegli elementi che ci siamo detti prima. Alta circolazione, popolazione molto anziana con molte morbidità in una sanità anche come quella a Bergamasca dove lavorano o dove hanno strutture di assoluta eccellenza internazionale, professionisti bravissimi, però pur col loro massimo impegno, pur con la massima personalità, quando i numeri sono di un certo tipo purtroppo e soprattutto ci sono persone anziane e fragili con queste polipatologie diventa molto difficile poter dare più di quello che si sta dando. Luca Laviola dell'Agenzia ANSA. Professor Brusoferro, da qualche giorno ci salta sempre più all'occhio il caso del Veneto che mi sembra avere, lei mi smentisca nel caso, una performance, chiamiamola così, piuttosto buona. Vedo che il numero dei tamponi è elevatissimo, ne hanno fatti 40 mila a fronte dei 48 mila, 49 mila della Lombardia che ha 15 volte i casi del Veneto. Hanno anche un numero molto basso rispetto alle altre regioni del nord di morti ed hanno molti pazienti in isolamento domiciliare rispetto a quelli ricoverati. Lei ha detto che i test non sono decisivi se ho sentito bene in questa fase. Volevo capire quali sono i motivi di questa performance migliore del Veneto rispetto alle altre regioni se non sono i tamponi. Guardi, io credo che, l'ho detto in premessa e lo ribadisco, una delle scommesse più importanti accanto all'assistenza ospedaliera e quindi la disponibilità di letti di terapia intensiva, di letti di semi-intensiva e credo, stando poi alle agenzie, so che anche nel Bergamasco stanno attrezzando ulteriori strutture per poter dare questa risposta. L'altra grande scommessa, e me l'avete sentito dire come leitmotiv in tutta questa conferenza e nelle conferenze precedenti, è la gestione delle persone a domicilio, positive o che non sono ancora positive ma sono contatti stretti. Io credo che quella è la scommessa importante che dobbiamo gestire, dopodiché oggi è un po' presto per fare dei bilanci rispetto di confronti tra realtà diverse, io penso di raccomandare questo e spero e mi auguro e sono certo che tutte le regioni sia chi purtroppo come la Lombardia oggi è veramente nel focus della crisi ma anche le regioni, lasciatemi dire, anche soprattutto le regioni che ancora non sono in questa situazione e che ci auguriamo non entri in questa situazione, è molto importante che il tracciare i contatti, il raccomandare laddove sono contatti stretti o paucci sintomatici quindi con tampone pauccio positivo ma con pochi sintomi a casa rispettino le regole di isolamento perché senza quell'elemento lì è molto difficile interrompere la circolazione. Concludiamo con una comunicazione di servizio. La Regione Campania ci ha informato che a breve farà un proprio comunicato per aggiornare i dati noi li inseriremo nella comunicazione di domani. Grazie e buona serata.